Ciao a tutti ragazzi qui è Visio e ben ritrovati nel canale. Oggi ragazzi Poké Sunday speciale direttamente da Firenze dove mi sono concesso una piccola vacanza anche se la mia passione per i Pokémon mi ha seguito fino a qui. Prima di iniziare questo video ragazzi io come al solito vi ricordo che sul canale attivo un fantastico giveaway, vi lascio la scheda qui sopra e il link è in descrizione qui sotto. Mi raccomando partecipate numerosi. Eccoci qui ragazzi allora come vi ho detto prima siamo in quel di Firenze e non sono solo perché qui con me c'è il mio animatore Marco. Ciao a tutti ragazzi. Quindi lo sono venuto a trovare ragazzi ci siamo concessi questa vacanza ma ovviamente non potevamo perdere occasione per aprire questi pacchetti. Per spustare due pacchetti. Insomma ci siamo concessi appena 10. 5 e 5. E quindi ragazzi facciamo così ne apriremo 5 io, 5 Marco e speriamo di trovare qualcosa di forte. Ovviamente ragazzi non mi ha seguito solo la passione a Firenze ma mi ha seguito anche il bilancino perché non potevamo non pesare i pacchetti. Quindi io direi di fare un po' di spazio e andiamo ad attivare il nostro fedele bilancino. Allora andiamo a salire leggermente l'inquadratura così potete vedere meglio. Perfetto. Eccoci qui. Quindi Marco io direi che puoi iniziare con i tuoi primi 5 pacchetti. Hai deciso che sono questi eh? Va bene. Allora quanti ne avevo? Facciamo 3. Pesa di tutte e 5 e mettiamoli in ordine di peso. Va bene. Allora si parte subito con un ventura e 74. Lo piazziamo qui. Poi si parte con un ventura e 60. Quello è leggermente meno. Questa è tristezza. Tristezza smicapese. Poi. Questa è triste. Ma mia. Ancora meno. Poi. 21. Una madonna. C'è già già da un picco proprio. Stiamo andando sempre meno. Avevo preso quelli più. Io mi sbusto quelli più schifiosi. E questo è buono. Questa è decente. Quindi in ordine di peso li facciamo così. Ok. Mettiamo da parte. Io direi devi partire sempre con la tristezza. Se passa lì. Vai. Iniziamo col più. Quindi si parte con il più leggero. Diciamo. Infatti Venusaur ci ha sempre regalato delle tristezze magiche proprio. Vai. Pronti. Allora. Via questa. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E io ho la tecnica purtroppo. La tecnica di un po' già delicante. Allora. Lo giro. Al contrario. Lo giro. Perfetto. Magica. Zorvo. Larvida ragazzi. Scylac. Questo è brutto come la morte. Si parte. Magari ci sta una gioia. Mi ha un po'. Questo è un miracino. Si ha detto che pesava poco. Questo è un miracino. Solo tristezza. Miliano. Romacqua. Questa qua dovrebbe essere quella... Non c'è la terza. Eccola. Dicevole di donne. Qua c'è la testezza. E' già se vede che non shine a un po' così. Dragonite! Bello! Dragonite! Ragazzi! Bellissimo! Si parte a gomma. E questo era un pacchetto che pesava poco. Quindi quello che pesa tanto è che ci troviamo. Bello, rega. Questo, questo ci è piaciuto. Quindi lasciamoci le carte più belle qua. Ok. Questo è il primo pacchetto. Niente male. Buono. Andiamo avanti. Jenga. Questo mi piace. Portaci tanta tanta gioia. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Oddio, vedete me è un piccio io con le mani con le mani. Vai! Arvolo. Questo è fantastico perché non sappiamo come si chiama. Ma questo è l'illuminato. PG8. Milano ragazzi. Cosmog è bellissimo. C'è tantissimo. Magic Carp. Come se ci fosse un domani. Vai! Energia. Bellino. Io non ce l'ho questo. Evolviamo, evolviamo. Mamma mia. Questo è proprio brutto ragazzi. Jasmine fantastica. Giascolare. Verso. Vediamo. Prova. Bitri. 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 Tristezza. Questo era normale ragazzi. E va bene questo purtroppo un pacchettino un po' così. Niente. Continuiamo. Questo lo togliamo. Ci fa schifo. Sì, lasciamo soltanto la roba a 6. Vabbè. Quindi un bravo. Bravamente buono. Allora, bussiamo un altro pacchetto. Via. Questo qui. Uno, due, tre e quattro. Ormai è fantastico come. Si riparte? Eccoci qui. Oddio! Io ho visto qualcosa di che brillava. Ho visto qualcosa di fantastico. Morto. Abbiamo fatto un piccolo spoiler. Spoiler. Si brillava. Squirt. Bronzo. Bronzo. Crec. Questi stagli innominati. Ci sono i tre fai che vado impossibile da bronzare. Eccoci qua. Energia. Meridia. Cabuto Bellino. Torna. È vero giù. Scarmory. Reverse. Che è raro. È raro. Qua pure doppia rara. Aspetta. Aspetta se sto sentimando. Vedo. Guarda. Guarda. Questo è bello. Vedi se è una Tim. Vedi solo se è una Tim. Guarda. Come faccio a vedere se è una Tim. In alto a sinistra. Non guarda il nome. Solo a sinistra. È una Tim. È una Tim. Oddio. È un altro. Però questo è il ritratto alternativo. Ci piace. Questi ce ne è. Modere 100. Sono trovato solo questi Ale. Che cavolo. E però questa a me piace perché c'è il ritratto questo diverso che non è molto comune da trovare. Non ce la mettiamo. Non ce la mettiamo. Non ce la mettiamo. Non ce la mettiamo. Poi se dovrebbe andare a salire quindi negli ultimi due dovremmo salire un po' Vediamo vediamo. Quindi Snorlax regalaci una Tim. Per piacere ne vorrei proprio una. Guarda. Strei tanto contento. Venosaurus e Selefici. Ma sarei proprio contento. Ok. Ho già fatto il pacchetto. Vai. Vai. Grimer a Ola. Bene. La vivi troppo collati a tutta cosa. Dai che voglio Pikachu e Amico Suo. Hyper. Nitorina. Fantastico. Viola. Bellissimo. Lì non mi ha dato parte dura. Oh. Gli piedi di fuoco. Eh lo ok scusa ho paura che è Burbix. Scusate regà se li piego. Vabbè vediamo un po'. E questo mi sa che niente. Che stessi che è tristezza. Vediamo un po'. Ma è sbagliato? O no? No è tristezza. Adesso è un momento di tristezza. Per noi. Per noi. Vabbè no. Non ci piace. È triste. La portiamo a me. Questo via. La rara la rivera la lasciamo lì perché comunque la doppia rara. L'ultimo. Questo è quello che pesava un po' del più. Che chi è che pesava lì? Che ne fai. Exeggute. Bello l'arbita. Sì. Scusate. Merit. Ok. Energia. Eh buon ragazzo. Fantastico persia. Firefresh. Il porro. Amoletto. Amoletto fulletto. Un c3 verse. Niente male. E qua. Speriamo che sia oro. Andiamo un po'. È un meso addirittura. Credo che sia oro. Buon so più. No. Ma carola. Non oro. Ma che era quella che pesava di più peraltro. Sì. Perché pesavate più. Vabbè dai ragazzi. I primi cinque pacchetti abbiamo trovato. Un dragorette raro olografico. Un bellissimo gangare mimico questo coi ritratto alternativo. E uno scarmori raro reverse. Ora ragazzi vado io con i miei cinque pacchetti. Eccoci qui ragazzi. Cinque pacchetti per me. E attenzione. Arriva il bilancino. Ok andiamo a vedere che ci dicono questi nuovi cinque pacchetti. Ok allora andiamo a pesare il primo. Buono. Questo ci piace. Mamma mia. Sopra. Questo ci piace. Poi. 21 e cinque. Questo è il voto. Questo è il voto. L'opposto. L'opposto pieno è un voto. La manca una carta. Poi 21 e 63. Insomma. Mamma mia. Buono. 21 e 68. Sì. Poi più o meno 86 e 88. Erano. Ho detto santo che c'hai quelli buoni. E questo è un altro. 21 e 60. Quindi questo era qua. Ok. Quindi io direi ovviamente di iniziare da quello più triste. Più triste. Quindi quello che pesa di meno. Ma esatto. Andiamo a vedere. Togliamo questo. Allora. 2, 3, 4, 1 e 2. Allora. Mi sono perso le carte. Però. Vi dico che secondo me. Quello che c'è. Perché io ci appoggio sempre il didino. E quindi. Mi sono fatto subito. Allora. Ragazzi. Vi dico. Non so se ho fatto il trick bene. Perché mi sono sfuggite le carte. Quindi non sono sicuro di aver fatto il trick bene. Però vediamo un po'. Energia. E qua arriva da momento all'altro. Sto a smuome. E che poi arriva. Grazie. Lavandonia. Pumida. E qui. Perciò sta dietro ragazzi. Perché mi sono sbagliato. Pumida reverse. Non male. E. Numero Sandro. Madonna Sandro. I Snorlax ragazzi. Questo ha raccontato il nostro hacker di quartiere Emanuele. Che è la sua preferita. Bellissima. Bella ragazzi. Lo sapevo che c'avevo tutti. Ho fatto il trick fatto male ragazzi. Però diciamo che è andata bene. Perché poi. La mettiamo qui. Questi li vediamo velocemente. E poi tra l'altro pacco Snorlax. Snorlax. No Lars. Snorlax. Snorlax. Ok. Quindi adesso andiamo a vedere. Questo altro pacchetto. Fa che ci fa so bene. Adesso vediamo di non sbagliarci ragazzi. Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Un e due. Pazzini. Eh sì eh. L'hai sentito? Eh sì. Ale non puoi farti così. Piggi. Abbiamo pure di tutti. Farfetch. Comunicazione Pokemon. Stai calmo. Stai calmo. No no no. Andiamo poche. Spissa poco poco. Spissa poco poco. Oh. Questo è Pikachu. È cosa? Questo è brilla. È Pikachu. Con l'amico suo. L'avvisto. È Pikachu. Ah. Ragazzi. Stiamo andando. Dal pugnetto pugnetto. Stiamo andando superforti ragazzi. Mamma mia Sandro. Due pacchette 2GX. Niente male ragazzi. Sandro. Questo è burdello. Stiamo andando bene. Procediamo con il terzo pacchetto perché noi non ci accontentiamo. Marco vogliamo trovare anche. Ci manca velo saura eccetera. Se troviamo quelli lì io penso che qua si vuote la stanza. Se ne vuote vanno. 3, 4, 1 e 2. Allora me sa che stavolta non c'è niente. E infatti si inizia con Bizzler. Vediamo un amico Bizzler. Squirtle qua sto facendo un po' d'ombra. Ok. Tentagool. Grimer. Piggi. Piggi. Golgak. Immancabile go. Romerba. Kakuna. Kazzino. Oltreverso carino. E golem. Non è una. Questa non mi dispiaceva trovare l'olografico. Non riesco a metterlo. Cioè ce lo diamo l'olografico tanto voi. Questo mi piaceva l'olografico. Te lo regalo io. Ok. Andiamo avanti. E quindi abbiamo regalato. Però ci abbastano stessi. Madonna rega che bella. Allora questi ragazzi sono più pesanti. Quindi in teoria. In teoria. Speriamo che ci diano una gioia. 3, 4, 1 e 2. Allora stavolta non ce l'ho messo il dito. Quindi non lo so. Andiamo avanti. Questo chi è? Jotik. Amicosissimo Jotik. Amico del bizze. Squirto. Tentacle. Grimer. Energia Folletto. Karma che c'è rapido. Ricevuta di ritorno. Kangaskhan. Executora Lola. Qua doppia rara. Perché questa Executora Lola è una rara. Reverse. Ce ne abbiamo un'altra perché ne ho trovato anche io questa. Oh. Olografico. Quell'altra era sempre olografico ma reverse. Quindi ho trovato in un pacchetto. Non mi ricordo ragazzi se l'ho pubblicato il video dove ho trovato il Tiranitar Reverse. Qui abbiamo anche un Tiranitar Olo. Quindi proprio bello. Ci mancava. Quindi questo ci piace. Quindi pure questo ci piace. Ok ragazzi. Andiamo all'ultimo pacchetto che era peraltro anche il più pesante. Speriamo di sentire. Senti io sto a puntare i pacchetti da 65 Sandro. Allora io ti dico qua ce lo metto il dito eh. 3, 4, 1 e 2. Mi sa de no. Mi sa de no. Mi sa de no ragazzi. Era la più pesante ma purtroppo c'è un po' deluso. Allora. Exig. Meo. Geo di Dialola. Energy. Acqua. Tauros. Slavandonia. Portarto. Pulpix. Reverse. Vado forte. Vado forte. Zapdos. Vado solo. Vabbè comunque ragazzi. Non ci possiamo lamentare. Perchè comunque abbiamo trovato un sacco di volo. Ora su Zapdos non è che mi piace molto. Però olografico mi piace. E se non sbaglio pure questo Marco. Se non mi pare di una cavolata ma ce l'ho anche Reverse. Quindi abbiamo trovato sia Tiranitar che Zapdos. Sia Reverse. Sia Raulografico. E li mettiamo. Quindi ragazzi io direi di andare a recuperare tutto il bottino della giornata. Che secondo me non è andato. Non è malaccio. Niente male eh. Ok qua abbiamo questo Zapdos. Lo mettiamo qui sotto. Poi abbiamo anche il Dragonite. Lo Scarmory. Ragazzi abbiamo trovato 3 GX. Di cui una con il ritratto alternativo. Poi abbiamo trovato 2 rare Reverse. E 1, 2, 3 rare olografico. Insomma sui 10 pacchetti abbiamo trovato 8 buone carte. Sì è vero. Quindi non ci possiamo lamentare. E quindi ragazzi per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale. Premere sulla campanellina per restare sempre a gelanzino a uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso bollice dall'insù. Io Visio e qua Marco. Ciao a tutti ragazzi. Vi mandiamo un grosso saluto da Firenze. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Qui è Visio e ben ritrovati nel canale. Ciao a tutti ragazzi. Qui è Visio e ben ritrovati nel canale. Oggi ragazzi poche Sunday speciali direttamente da vacanza. A nostra mega vacanza città. No, 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 no.